C'è tanto entusiasmo, sia al di fuori che all'interno del nostro ambiente. Dopo aver visto una campagna di acquisti così positiva, con tanti giocatori nuovi, quindi è normale che si siano alzate le attenzioni, il livello si è alzato e quindi va di passo che l'atmosfera possa portare grande positività, ma è quella che abbiamo avuto fin dall'inizio del ritiro, abbiamo lavorato molto serenamente, sapendo di dover affrontare una stagione importante, dove ci guardano tutti, perché la Sampdoria comunque è una squadra importante e quindi siamo sotto l'occhio di tutti, ma questo non ci deve far cambiare il nostro obiettivo. È una partita importante perché tutte le competizioni a cui facciamo parte devono essere importanti, la Coppa Italia è una di queste, sappiamo di affrontare una squadra di Serie A, che l'anno scorso ha avuto il merito di salire, si è attrezzata moltissimo in questa campagna acquisti, quindi sappiamo il valore della squadra che andiamo ad affrontare. Un test importante anche in preparazione del campionato, ma questo verrà la settimana prossima, quello che ci importa è giocare al massimo la partita di domani, giocarla a viso aperto, senza paura, anche per vedere a che livello siamo. La società ha fatto un grandissimo lavoro, dal presidente al direttore, quindi c'è da fargli complimenti perché in poco tempo hanno allestito e comprato un sacco di giocatori, adesso il problema diventa il mio, ma non deve essere un problema, anzi è una cosa molto piacevole avere a disposizione giocatori di questo livello, ci siamo rinforzati anche come struttura, anche a livello fisico, rispetto all'anno scorso abbiamo messo molti più chili, anche a livello di esperienza, quindi gli errori fatti inizialmente non potranno più succedere quest'anno, perché è cambiata proprio la struttura della squadra e anche l'esperienza si è alzata notevolmente. Quindi i giocatori che sono arrivati si sono ambientati benissimo, hanno trovato un bel ambiente, perché quello era la cosa a cui non dovevano avere paura, perché il gruppo di lavoro dell'anno scorso è stato straordinario, è andato avanti nonostante i tantissimi problemi che abbiamo avuto, e quindi si sono inseriti velocemente e ci daranno una mano. Nonostante magari tante voci all'inizio pensassero in un altro modo, invece hanno dimostrato che quello che avevano detto l'anno scorso hanno avuto poi un modo di poterlo fare e quindi sappiamo di avere una grande responsabilità, loro ci hanno messo a disposizione una squadra di alto livello e quindi poi aspetterà noi tutti insieme fare un grande lavoro, anche se sappiamo che il campionato di Serie B è molto difficile, si sono attrezzate tantissime squadre, perché non solo la Sampdoria ha fatto questa campagna, ma anche tantissime altre, quindi l'obiettivo per tutti è quello di arrivare a centrare il massimo e poi sarà dura come l'ho sempre stato. È normale giocare con pressione quando giochi con questa maglia, con questi tifosi, ma deve essere una cosa positiva e non negativa che ti porti addosso poi durante le partite. Dobbiamo sentirla e la sentiamo, ma non deve essere un peso, anzi deve essere una energia, una forza in più che ci deve dare quella spinta a voler fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo visto che quello dell'anno scorso non è bastato, quindi dobbiamo dare ancora qualcosina in più, perché il livello di tutte le squadre si è alzato, quindi anche il nostro di conseguenza deve migliorare. Girarchia no, perché comunque Paolo è arrivato ieri, quindi non abbiamo ancora avuto modo di poterlo testare, però l'abbiamo visto in tutto il campionato scorso, che è stato il miglior portiere della Serie C, quindi ha fatto un grandissimo campionato e Simone è arrivato da prima di lui, quindi abbiamo avuto modo di poterlo allenare, ha fatto già una partita importante, quindi domani è normale che possa iniziare lui, perché ha dimostrato di star bene, ha dimostrato di avere qualità, quindi domani giocherà Simone. Kinsemiro viene dalla primavera dell'Inter, però era sulla bocca di tutti, aveva tantissime richieste, però alla fine siamo stati bravi ad anticipare le altre squadre e portarlo da noi. Mell è arrivato un po' dopo, ha lavorato poco in Olanda, quindi è arrivato con un po' di lavoro in meno, e quindi ci avrà un po' di tempo in più per potersi adattare anche al lavoro in Italia, perché comunque è diverso rispetto al calcio andese, però l'abbiamo già visto, è un giocatore intelligente, che si muove bene, vede bene il gioco, ha ottime qualità. Come ho detto prima, Coppa Italia è un obiettivo importante, anche perché se dovessimo vincere, c'è un derby da affrontare, che è una bellissima cosa per noi, per la città, per i tifosi, quindi adesso la testa deve essere completamente alla gara di domani. Non è mai stato in dubbio il loro appoggio, l'hanno dimostrato l'anno scorso, ma anche negli anni precedenti, quindi sono sicuro che raggiungeranno velocemente quella quota, ma per noi è importante avere il loro sostegno, cercarli di portarli dalla nostra parte, perché solo le partite e le vittorie ti portano ad alzare l'entusiasmo e di conseguenza ad avere un'atmosfera sempre positiva all'interno del nostro stadio, che deve essere un fortino per noi, perché non è da tutti avere così tanti tifosi sempre presenti, che ti incitano dal primo novantesimo, quindi dovrà essere un nostro punto di forza. Grazie a tutti.